Resistenza e rinascita, mai come in questo 25 aprile 2020 le due parole sono andate a braccetto. In questo caso va bene anche la tanto abusata metafora bellica adoperata per chi combatte da casa o in ospedale contro la malattia mortale che una volta si chiamava nazifascismo e oggi porta il nome di coronavirus. E non solo perché rinascere la parola d'ordine del manifesto donato per l'occasione a Lampi da Uconespolo, ma perché questa festa della liberazione va intesa davvero come festa della ripartenza per tutti gli italiani. Per la prima volta in Italia, dal dopoguerra, la festa della liberazione non si è celebrata in strada, ma nelle piazze virtuali e dalle finestre delle proprie abitazioni. Diverse le iniziative anche a sud della provincia di Salerno, da Vallo delle Lucani a Sassano, i sindaci e le associazioni combattenti, con tutte le prescrizioni del caso, hanno omaggiato coloro che 75 anni fa liberarono il paese dall'occupazione antifascista. Cari concittadini, cari concittadini, oggi è un 25 aprile particolare, siamo nella nostra piazza, piazza Umberto I, in una piazza vuota, ma in una piazza dove si sente forte il desiderio di libertà. Io voglio esprimere un ringraziamento a tutti voi che in questi giorni avete dato una grande prova di resistenza, una resistenza che ci consentirà di riprenderci la nostra normalità, ci consentirà di riprenderci la nostra libertà. Io mi auguro che quello che stiamo vivendo oggi ci possa far capire determinate cose, ci possa far capire anche il significato di determinati valori, il valore dell'amicizia, il valore dell'amore, il valore della lealtà, il valore del rispetto degli ultimi, il valore del rispetto dell'ambiente e del patrimonio che ci circonda, il valore dell'amore per la nostra patria, l'Italia, e il valore per l'amore e l'orgoglio della nostra terra. Un messaggio nel giorno della liberazione è arrivato anche da Bruxelles, da parte del loro parlamentare Isabella Di Nolfi. Il 25 aprile festeggiamo la liberazione, ha detto, ma noi possiamo solo dire grazie a molti che hanno lottato, sacrificandosi affinché tutti noi fossimo liberi. Nulla accade per caso, c'è sempre bisogno di compiere un'azione per avere un qualsivoglia cambiamento.